Capitolo 1 Una riunione inaspettata In una caverna sottoterra viveva uno hobbit. Non era una caverna brutta, sporca, umida, pina di resti di vermi e di trasudo fetido, e neanche una caverna arida, spoglia, sabbiosa, con dentro niente per sedersi o da mangiare. Era una caverna hobbit, cioè comodissima. Aveva una porta perfettamente rotonda come un oblò, dipinta di verde, con un lucido pomello d'ottone proprio nel mezzo. La porta si apriva su un ingresso a forma di tubo, come un tunnel, un tunnel molto confortevole, senza fumo, con pareti foderate di legno e pavimento di piastrelle ricoperto di tappeti, fornito di sedie lucidate e di un gran numero di attaccapanni per cappelli e cappotti. L'hobbit amava molto ricevere visite. Il tunnel si snodava inoltrandosi profondamente, anche se non in linea retta nel fianco della collina, o meglio, la collina, come era chiamata da tutta la gente per molte miglia all'intorno, e molte porticine rotonde si aprivano su di esso, prima da una parte e poi dall'altra. Niente piani superiori per l'hobbit, le camere da letto, i bagni, le cantine, le dispense molto numerose, i guardaroba, c'erano camere intere destinate ai vestiti, le cucine, le sale da pranzo erano tutte sullo stesso piano, anzi, sullo stesso corridoio. Le camere migliori erano tutte sul lato sinistro, entrando, perché erano le sole ad avere finestre, finestre rotonde profondamente incassate che davano sul giardino e sui campi dietro di esso, lentamente degradanti verso il fiume. Quest'hobbit era unhobbit veramente benestante, e il suo nome era Baggins. I Baggins avevano vissuto nella zona attorno alla collina da tempi immemorabili, e la gente li considerava molto rispettabili, non solo perché in generale erano molto ricchi, ma anche perché non avevano mai avuto nessuna avventura né fatto niente di imprevedibile. Si poteva presupporre l'opinione di un Baggins su un problema qualsiasi senza che ci fosse bisogno di chiedergliela. Questa è la storia di come un Baggins ebbe un'avventura e si trovò a fare e dire cose del tutto imprevedibili, può anche aver perso il rispetto del vicinato, ma in cambio ci guadagnò. Bene, vedrete se alla fine ci guadagnò qualche cosa. La madre di questo nostro hobbit, così diverso dagli altri? Ma che cos'è un hobbit? Credo che al giorno d'oggi gli hobbit abbiano bisogno di essere in qualche modo descritti, dal momento che sono diventati rari e timorosi della gente grossa, come ci chiamano. Sono, o erano, gente piccola, alti all'incirca la metà di noi, e più minuti dei nani barbuti. Gli hobbit non hanno barba, del resto poco o niente di magico c'è in loro, tranne il modo comunissimo con cui spariscono silenziosamente e velocemente quando gente grossa e stupida come me e voi capita lì attorno, facendo un rumore di un elefante che essi possono sentire a un miglio di distanza. Tendono a mettere su un po' di pancia, vestono di colori vivaci, soprattutto di verde e di giallo, non portano scarpe perché i loro piedi sviluppano piante naturalmente dure come il cuoio, e un vello fitto, caldo e scuro come quello che hanno in testa, che è riccioluta. Hanno lunghe, abili dita scure, facce gioviali, e ridono con risa profonda e pastose, specialmente dopo il pranzo, che consumano due volte al giorno se ci riescono. Adesso ne sapete abbastanza per andare avanti. Come dicevo, la madre di questo hobbit, di Bilbo Baggins, cioè era la famosa bella donna Took, una delle tre notevoli figlie del vecchio Took, capo degli hobbit che vivevano di là dall'acqua, cioè oltre il piccolo fiume che scorreva ai piedi della collina. Si diceva spesso, in altre famiglie, che molto tempo addietro uno degli antenati dei Took doveva aver preso in moglie una fata. Naturalmente questo era assurdo, ma certo vera ancora qualcosa di non tipicamente hobbit in loro, e di tanto in tanto qualche membro del clan dei Took partiva e aveva avventure. Spariva discretamente, la famiglia metteva tutto a tacere, ma rimaneva il fatto che i Took non erano così rispettabili come ai Baggins, pur essendo i discutibilmente più ricchi. Non che bella donna Took avesse mai avuto una qualsiasi avventura dopo aver sposato Bungo Baggins. Bungo, cioè il padre di Bilbo, costruì per lei, e in parte col denaro di lei, la più lussuosa hobbit casa che si potesse trovare sotto la collina o sopra la collina o al di là dall'acqua, e rimasero lì fino alla fine dei loro giorni. Tuttavia è probabile che Bilbo, l'unico figlio di bella donna, sebbene fosse e si comportasse esattamente come una seconda edizione del suo solido e tranquillo padre, avesse ereditato dalla parte dei Took qualcosa di strano nella sua formazione, qualcosa che aspettava solo l'occasione per venire alla luce. L'occasione arrivò solo dopo che Bilbo fu cresciuto, quando aveva circa 50 anni, e viveva nella bella casa di suo padre che vi ho appena descritto, quando cioè si era sistemato in apparenza per sempre. Per un qualche curioso caso, un mattino di molto tempo fa, nella quiete del mondo, quando c'era meno rumore e più verde, e gli hobbit erano ancora numerosi e prosperi, e Bilbo Baggins stava sulla porta dopo colazione fumando un'enorme pipa di legno che gli arrivava fin quasi alle pelose dita dei piedi, accuratamente spazzolate, ecco arrivare Gandalf. Gandalf, se di lui aveste sentito solo un quarto di quello che ho sentito io, e anch'io ho sentito ben poco di tutto quello che c'è da sentire, vi aspettereste subito una qualche storia fuori del comune. Storie e avventure spuntavano fuori da ogni parte, ovunque egli andasse, ed è il tipo più straordinario. Non era più sceso sotto la collina da un sacco di tempo, per l'esatezza da quando era morto il suo amico, il vecchio Tuk, e gli hobbit avevano quasi dimenticato il suo aspetto. Era stato via oltre la collina e al di là dell'acqua, per certi suoi affari, sin da quando erano tutti piccoli hobbit. Tutto quello che l'ignaro Bilbo vide quel mattino era un vecchio con un bastone. Aveva un alto cappello blu a punta, un lungo mantello grigio, una sciarpa argentea sulla quale la lunga barba bianca ricadeva fin sotto la vita, e immensi stivali neri. Buongiorno, disse Bilbo, e lo pensava veramente, il sole brillava e l'erba era verdissima, ma Gandalf lo guardò da sotto le lunghe sopracciglie ersute ancora più sporgenti dell'attesa del suo cappello. Che vuoi dire? disse. Mi auguri un buongiorno, o vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che ti senti buono quest'oggi, o che è un giorno in cui si deve essere buoni. Tutto quanto, disse Bilbo, è un bellissimo giorno per una pipata all'aperto per di più. Se avete una pipa con voi, sedetevi e prendete un po' del mio tabacco. Non c'è fretta, abbiamo tutto il giorno davanti a noi. E Bilbo si sedette su un sedile accanto alla porta, incrociò le gambe e fece un bel anello grigio di fumo che salì in aria senza rompersi e si librò sopra la collina. Graziosissimo, disse Gandalf, ma stamattina non ho tempo di fare anelli di fumo. Cerco qualcuno con cui condividere un'avventura che sto organizzando, ed è molto difficile trovarlo. Lo credo bene da queste parti, siamo gente tranquilla e alla buona e non sappiamo che farcene delle avventure. Brutte, fastidiose, scomode cose, fanno far tardi a cena. Non riesco a capire cosa ci si trovi di bello, disse il nostro signor Baggins, e infilati pollici sotto le bretelle fece un anello di fumo ancora più grande. Poi tirò fuori la posta del mattino e cominciò a leggerla, ostentando di ignorare completamente il vecchio. Aveva deciso che non era proprio il suo tipo e voleva che se ne andasse, ma il vecchio non si mosse. Stava fermo, appoggiato il suo bastone, fissando la hobbit senza dire niente, finché Bilbo si sentì a disagio e anche un po' seccato. Buongiorno, disse alla fine, non vogliamo nessuna avventura qui, grazie tante. Potete tentare sopra la collina o al di là dell'acqua. Concio voleva dire che la conversazione era conclusa. Però, quante cose sai dire col tuo buongiorno, disse Gandalf. Adesso vuoi dire che ti vuoi sbarazzare di me e che il giorno non sarò buono finché non me ne sarò andato. Niente affatto, niente affatto, caro signore. Vediamo un po', non credo di conoscere il vostro nome. Sì, sì, mio caro signore, io conosco benissimo il tuo, signor Bilbo Baggins. E tu conosci benissimo il mio, anche se non ricordi che sono io a portarlo. Io sono Gandalf, e Gandalf vuol dire me. E pensare che dovevo vivere per essere congedato con un buongiorno dal figlio di Belladonna Tuck come se fosse un venditore ambulante di bottoni. Gandalf. Gandalf, figurarsi un po'. Quello stregone vagabondo che diede al vecchio Tuck un paio di magici gemelli di diamanti che si attaccavano da sé e non riusciva più a staccarli fino a che non glielo si ordinava. Quel tipo che alle feste raccontava splendide storie di draghi e orchi e giganti, e la liberazione di principesse e la fortuna inaspettata di figli di vedove. L'uomo che sapeva fabbricare quei fantastici fuochi d'artificio. Quelli sì che me li ricordo. Il vecchio Tuck li faceva a ferragosto, splendidi. Salivano come enormi gigli, bocchi di leone e ginestre di fuoco, e rimanevano sospesi nel crepuscolo per tutta la sera. Vi sarete accorti che il signor Baggins non era proprio così prosaico come amava credere, e inoltre che era molto amante dei fiori. Povero me, continuò. Proprio il Gandalf che spinse tanti bravi ragazzi e ragazze a partire per l'ignoto in cerca di pazze e avventure. Arrampicarsi sugli alberi, visitare Elfio, andare per Naveo e far vela per altri lidi. Che il cielo mi perdoni la vita da proprio interesse? Voglio dire, un tempo avevate l'abitudine di mettere tutto sottosopra da queste parti. Vi chiedo scusa ma non avevo idea che foste ancora in affari. Che altro dovrei fare? Disse lo stregone. Ma sono contento lo stesso di vedere che ricordi qualcosa di me. Sei gentile a ricordare almeno i miei fuochi d'artificio e questo mi fa sperare bene. Sì, certo. Per amore del tuo vecchio nonno Tuck e per amore della povera bella donna ti darò quello che mi hai chiesto. Vi chiedo scusa ma io non ho chiesto niente. E invece sì, è per ben due volte. Sei scusato? Te lo darò, anzi farò di più. Ti darò una bella parte in questa avventura. Molto divertente per me, ottima per te e anche proficua probabilmente se riesci a venirne fuori. Scusate, io non voglio nessuna avventura, grazie. Non oggi. Buongiorno, ma venite a prendere il tè per piacere. Quando vi pare? Perché non domani? Venite domani, arrivederci. Detto questo l'obbite si girò svegnandosela per la verde porta rotonda e la chiuse, appena oso farlo senza apparire maleducato. Dopotutto gli stregoni sono sempre stregoni. Perché mai l'ho invitato a prendere il tè, disse tra sé e sé andando in dispensa. Aveva appena fatto colazione, ma pensò che una torto o due e un bicchierino gli avrebbero fatto bene dopo lo spavento. Frattanto Gandalf stava ancora lì fuori dalla porta, ridendo a lungo, ma silenziosamente. Dopo un po' si mosse con la punta del bastone e fece uno strano segno sul bel portoncino verde della Hobbit. Poi si allontanò a grandi passi, più o meno mentre Bilbo stava finendo la sua seconda torta e cominciava a pensare che era stato molto abile nell'evitare avventure. Il giorno dopo aveva quasi dimenticato Gandalf. Non ricordava molto bene le cose, a meno che non le mettesse giù sulla lavagnetta dove segnava gli appuntamenti, più o meno così. Gandalf, tè, mercoledì. Ieri era stato troppo agitato per poter fare qualcosa del genere. Proprio un momento prima dell'ora del tè, il campanello della porta suonò furiosamente e allora si ricordò. Corsa a metter sulla cucuma per l'acqua, tirò fuori un'altra tazza e un piattino, una o due torte in più e corse alla porta. Stava per dire, mi dispiace tanto di avervi fatto aspettare, quando vide che non era affatto Gandalf. Era un nano, con una barba blu infilata in una cintura d'oro e occhi vivacissimi sotto il cappuccio verde scuro. Appena la porta fu aperta si infilò dentro, proprio come se fosse stato atteso. Appese il mantello a cappuccio sulla taccapanni più vicino e con un leggero inchino disse, Dualin al vostro servizio. Bilbo Baggins al vostro, disse l'Hobbit, troppo sorpreso per poter fare domande, quando il silenzio che seguì divenne imbarazzante aggiunse, stavo proprio per prendere il tè, volete avere la cortesia di venire a prenderne una tazza con me? Un po' troppo formale forse, ma l'intenzione era gentile. E d'altra parte voi che cosa fareste se vi arrivasse un nano inaspettato e appendesse le sue cose nel vostro ingresso senza una parola di spiegazione? Non erano stati a lungo a tavola, in effetti avevano a malapena attaccato la terza torta, quando il campanello suonò ancora più forte di prima. Scusatemi, disse l'Hobbit, e andò ad aprire la porta. Finalmente siete arrivato, questo era quanto avrebbe detto a Gandalf questa volta, ma non era Gandalf. Al suo posto sulla soglia c'era un nano molto vecchio, con una barba bianca e un cappuccio scarlatto, e anche lui saltellò dentro appena la porta fu aperta, proprio come se fosse stato invitato. Vedo che sono già cominciati ad arrivare, disse scorgendo il cappuccio verde di Dualin appeso all'attaccapanni, vi appese vicino quello suo rosso, e con la mano sul petto disse Balin al vostro servizio. Grazie, disse Bilbo boccheggiante, non era la risposta giusta, ma la frase sono cominciati ad arrivare lo aveva proprio sconvolto. I visitatori gli piacevano, ma gli piaceva conoscerli prima che arrivassero e preferiva invitarli di persona. Aveva l'orribile sensazione che il numero delle torte sarebbe probabilmente risultato insufficiente, e che lui poi, come anfitrione, conosceva il suo dovere e lo compiva per quanto fosse doloroso, avrebbe dovuto farne a meno. «Venite dentro a prendere un po' di te», riuscì a dire dopo aver tratto un profondo respiro. «Preferirei un po' di birra se per voi è lo stesso, mio caro signore», disse Balin dalla barba bianca. «Ma un po' di torta mi va benissimo, pan di spagna se ne avete». «Altro che», si trovò a rispondere Bilbo con sua grande sorpresa, e si trovò anche a correre in cantina per riempire un boccale di birra da mezzo litro e poi in dispensa cercare due pan di spagna belli rotondi, che aveva cotto nel pomeriggio per lo spuntino dopo cena. Quando tornò, Balin e Dualin stavano a tavola parlando come vecchi amici, per la verità erano fratelli. Bilbo posò seccamente la birra e le torte davanti a loro, ed ecco che il campanello suonò ancora, e ancora con forza. «Stavolta Gandalf senz'altro», pensò mentre sbuffava nel corridoio. «Invece no, erano altri due nani, entrambi con cappucci blu, cinture d'argento e barba gialla, e ciascuno di essi portava un sacco di attrezzi e una vanga». Saltellarono dentro appena la porta fu aperta, e Bilbo ne fu assai poco sorpreso. «Cosa posso fare per voi, nani miei?» disse. «Kili, al vostro servizio», disse uno. «E Fili», aggiunse l'altro, ed entrambi si sfilarono al cappuccio blu e fecero un cortese cenno di saluto. «Al vostro e della vostra famiglia», replicò Bilbo, che questa volta si ricordò delle buone maniere. «Vedo che Dualin e Balin sono già qui», disse Kili. «Mescogliamoci alla folla». «La folla», pensò il signor Baggins. «Questo modo di parlare non mi piace affatto. Devo proprio sedermi un attimo a riprendere fiato e a bere qualcosa». Aveva appena fatto in tempo a bere un sorso, in un angolo, mentre i quattro nani sedevano attorno alla tavola e parlavano di miniere, di oro, di guai con gli orchi, delle ruberie dei draghi, e di un sacco di altre cose che Bilbo non capiva e non voleva capire, perché avevano l'aria di essere troppo avventurose. Quando ding dong, ling lang, il campanello suonò di nuovo come se un ragazzaccio Hobbit stesse cercando di rompere il pulsante. «Qualcuno è alla porta», disse battendo le palpebre. «Circa quattro, direi, dal suono», disse Fili. «A parte questo li abbiamo visti venire dietro di noi, in lontananza». Il povero Hobbit si sedette nell'ingresso e si prese la testa tra le mani, chiedendosi che cosa fosse accaduto, che cosa stesse per accadere e se sarebbero rimasti a cena tutti quanti. Poi il campanello suonò di nuovo più forte che mai e dovette correre alla porta. Dopotutto non erano quattro, erano cinque. Un altro nano era arrivato mentre lui nell'ingresso stava chiedendosi che cosa succedeva. Aveva a malapena girato la maniglia, che erano già tutti dentro, facendo cortesi cenni di saluto e dicendo «Al vostro servizio uno dopo l'altro». Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin erano i loro nomi, e ben presto due cappucci purpurei, un cappuccio grigio, un cappuccio marrone e un cappuccio bianco, pendevano dall'attaccapanni, e i nani si avviavano marciando a raggiungere gli altri, con le larghe mani ficate nelle cinture d'oro ed argento. Era già diventata quasi una folla, qualcuno chiese della birra chiara, qualcuno della birra scura, uno il caffè e tutti delle torte, così tennero l'obbito molto occupato per un po' di tempo. Una grossa caffettiera era appena stata posata a terra, i pan di spagna erano spariti e i nani cominciavano un giro di brioche imburrate, quando si sentì bussare forte. Non uno squillo, ma un duro boom boom sulla porta verde dell'obbit. Qualcuno batteva violentemente con un bastone. Bilbo corse per il corridoio, arrabbiatissimo, completamente sconcertato e sconvolto. Questo era il peggiore mercoledì di tutta la sua vita. Aprì la porta con uno strattone, caddero tutti dentro, l'uno sopra l'altro, altri nani, altri quattro, e dietro c'era Gandalf che stava appoggiato al bastone e rideva. Aveva fatto una bella ammaccatura sulla porta e, tra parentesi, aveva cancellato il segno segreto che vi aveva messo il mattino precedente. Attento, attento, disse. Non è da te far aspettare gli amici sullo zerbino, Bilbo, e poi aprire la porta come un fulmine. Permettimi di presentarti Bifur, Bofur, Bombur e specialmente Thorin. Al vostro servizio, dissero Bifur, Bofur e Bombur, stando in fila. Poi appesero due cappucci gialli e uno verde pallido e anche uno azzurro cielo con una lunga nappa d'argento. Quest'ultimo apparteneva a Thorin, un nano estremamente importante e non altri anzi che il grande Thorin scudo di quercia in persona, che non era stato contento per niente di cadere disteso sullo zerbino di Bilbo con Bifur, Bofur e Bombur sopra di lui. Tra l'altro Bombur era enormemente grasso e pesante. Thorin in realtà era molto altero e la parola servizio non gli uscì affatto di bocca, ma il povero signor Baggins si scusò tante di quelle volte che alla fine egli grugnì un «per favore, non importa» e spianò il suo cipiglio. «Adesso ci siamo tutti», disse Gandalf, osservando la fila di tredici cappucci, i migliori cappucci staccabili, quelli della festa, e il proprio cappello che pendevano da lattaccapanni. «Una bella compagnia davvero, spero che ci sia ancora qualcosa da mangiare per i ritardatari. Che cosa ci sarà? Del tè? No, grazie tante, per me un goccio di vino rosso, direi». «E anche per me», disse Thorin. «E marmellata di lamponi e torta di mele», disse Bifur. «E pizza e formaggio», disse Bofur. «E polpettone e insalata», disse Bombur. «E ancora dolci, e birra, e caffè!» E se non vi dispiace chiesero gli altri nani attraverso la porta. «Metti su qualche uovo, da bravo», gli gridò dietro Gandalf, mentre la Hobbit si avviava tutto rigido verso le dispense. «E già che ci sei, tira fuori il pollo freddo e sott'aceti!» «Sembra che sappia che cos'ho in dispensa meglio di me», pensò il signor Baggins, che si sentiva completamente a terra e cominciava a chiedersi se la più sciagurata delle avventure non gli fosse piombata addirittura in casa. Quando finalmente riuscì ad ammucchiare su grossi vassoi tutte le bottiglie, i piatti, i bicchieri, i cucchiai, le scodelle, e chi più ne ha più ne metta, era diventato tutto accaldato, rosso in faccia, molto seccato. «Vadano in malora tutti quanti questi nani», disse ad alta voce, «perché non vengono a darmi una mano?». Detto e fatto, eccoli Balin e Dualin sulla porta della cucina, i figli e i chili dietro di loro, e prima che Bilbo potesse dire «bah», avevano fatto sparire nel salotto i vassoi e un paio di tavolinetti, e disposto bellamente a ogni cosa. Gandalf sedeva a capotavola coi tredici nani tutti intorno a lui, e Bilbo sedeva su una seggiolina vicino al caminetto, mordicchiando un biscotto, l'appetito gli era quasi completamente passato, e cercando di fingere che tutto fosse perfettamente a posto e niente affatto un'avventura. I nani mangiavano e mangiavano, parlavano e parlavano, e il tempo passava. Alla fine spinsero indietro le sedie e Bilbo si mosse per raccogliere piatti e bicchieri. «Immagino che vi tratteniate a cena», disse col tono di voce più educato e inespressivo. «Ma naturale», disse Thorin, «e anche dopo, non risolveremo la faccenda fino a tardi, dobbiamo prima fare un po' di musica, adesso sparecchiare». Al che i dodici nani, non Thorin, che era troppo importante e rimase a parlare con Gandalf, balzarono in piedi e ammucchiarono ogni cosa in alte pile. Senza aspettare i vassoi se ne uscirono tenendo in equilibrio e con una mano sola colonne di piatti, ognuna con una bottiglia in cima, mentre l'hobbit correva dietro di loro quasi squittendo per la paura. «Per piacere fate attenzione!» e «Per piacere non vi disturbate, posso fare da solo!» ma per tutta risposta i nani cominciarono a cantare. «Scheggia le coppe, sbriciola i piatti, lame e forchette torcino un poco, ciò bilbo beghi in sodia da matti, spacca bottiglie dai tappi al fuoco, strappa tovaglie sul grasso salta, riversa il latte nel ripostiglio, a piede al letto tutto ribalta, l'uscio di vino spruzza vermiglio. Versa stoviglie che l'acqua scotta, col gran pestello trita le bene, e se qualcuna resta non rotta, buttarla in terra tosto conviene. Ciò bilbo beghi in sodia da matti, attento dunque tu con quei piatti!» Naturalmente non fecero nessuna di queste cose orribili e pulirono e riposero ogni cosa sana e salva, mentre l'Hobbit girava e rigirava in mezzo alla cucina cercando di vedere che cosa stessero facendo. Poi tornarono indietro e trovarono Thorin che fumava la pipa coi piedi sul parafuoco. Faceva degli anelli di fumo assolutamente enormi che andavano ovunque e gli diceva loro di andare, su per la cappa del camino, dietro l'orologio sopra la mensola o sotto la tavola o attorno al soffitto, ma dovunque l'anello di fumo andasse non era mai abbastanza veloce da sfuggire a Gandalf. Pop! Dalla sua corta pipa di terracotta egli spediva un anello di fumo più piccolo esattamente attraverso ciascuno di quelli di Thorin. Poi l'anello di fumo di Gandalf diventava verde e tornava indietro a librarsi sopra la testa dello stregone. Ce n'era già una nuvola attorno a lui, che gli dava un aspetto strano e stregonesco nella penombra. Bilbo rimase fermo a guardare, gli piacevano molto gli anelli di fumo, e poi arrossì al pensiero di quanto si fosse sentito fiero degli anelli di fumo che aveva fatto salire nel vento sopra la collina il mattino precedente. Amici del tubo, siamo arrivati a pagina 25 del primo capitolo della Hobbit, partendo da pagina 13. Abbiamo fatto 12 pagine, siamo circa a metà del primo capitolo. Forse molti di voi avrebbero preferito che arrivassi fino in fondo, ma siccome il primo capitolo, come quasi tutti gli altri 19 capitoli della Hobbit, sono pieni di cose da dire, specialmente ora che iniziamo questo viaggio all'interno del mondo creato da Tolkien, ho preferito interrompermi qui prima della canzone dei nani della montagna solitaria, quella che ci hanno fatto sentire in mille versioni con l'uscita del primo film della Hobbit, e inizierei a dire qualche cosa su quello che abbiamo appena letto. Allora, innanzitutto che cosa è successo? Un piccolo riassunto di quello che abbiamo letto fino ad ora, il nostro protagonista è un piccolo Hobbit, un mezzuomo che vive nella contea, un mezzuomo potremmo dire fra virgolette borghese, cioè uno di quelli messi abbastanza bene economicamente, vive una vita tranquillissima e non ha la benché minima intenzione di imbarcarsi in qualche avventura o fare qualcosa di imprevisto. Quando ecco che una personalità che da tempo non frequentava la contea, cioè Gandalf, amico del vecchio Tuk, cioè credo il bisnonno di Bilbo, si palesa nuovamente e a quanto pare cerca direttamente Bilbo Baggins per proporgli di vivere un'avventura. Naturalmente Bilbo non ha la benché minima pretesa di fare questo, ma viene fra virgolette turlupinato da Gandalf, il quale non appena Bilbo torna in casa spaventatissimo, ma invitandolo comunque a prendere il tè il giorno dopo, il che è tipico di una mentalità molto british che adoro, che viene rappresentata nella contea discretamente bene. Gandalf fa un segno sulla porta della casa dello Smial, mi stavo interrompendo perché volevo già subito dare una definizione delle case degli hobbit che vengono denominate Smial nel caso siano case scavate all'interno della collina, le quali non sono normali, non ci sono abbastanza colline nella contea per contenere tutti gli Smial, di fatti molti hobbit quelli messi economicamente peggio del tranquillissimo Bilbo vivono solitamente in capanne o in case senza finestre. La bella casa di Bilbo Baggins non è la normalità nella contea, ma a parte questo Gandalf fa un segno sullo Smial, sulla porta dello Smial della casa di Bilbo e si attende il giorno successivo, il giorno successivo in cui Bilbo si ricorda all'improvviso di aver fissato effettivamente un appuntamento con Gandalf per prendere il tè, fatto sta che quando bussano la sua porta e lui tranquillo va ad aprire immaginando che sia Gandalf che vorrà insistere nel convincerlo a partecipare a un'avventura, si ritrova in casa improvvisamente uno, due, tre volte con tredici nani. Immagino che Bilbo fosse avvezzo a vedere i nani perché alcuni nani vivono relativamente vicini alla contea e Tolkien anche nel Signore degli Anelli ci dice che spesso i nani erano soliti girare all'interno della contea e in parte molto minore anche qualche essere umano, per cose che cercherò di spiegare fra poco, ma fatto sta che senza alcun invito il libro specifica agli Hobbit e agli Hobbit in generale piaceva avere degli ospiti, erano sempre pronti a ricevere degli ospiti con numerose vettovaglie o comunque con l'insalotto sempre pronto per organizzare una cena di gruppo, ma il fatto che queste persone non si fossero invitate e che Bilbo non fosse stato neanche lontanamente informato di quello che sarebbe successo lo rendono molto nervoso. Alla fine arriva anche Gandalf con l'ultima bordata di nani i quali sono cappeggiati da questo Thorin scudo di quercia il cui libro in questo momento ci dice soltanto che era un nano molto importante. I nani sono molto allegri, improvvisano anche una canzoncina al termine della cena per pulire, aiutare Bilbo a pulire i piatti e tutto il resto, naturalmente fra un po' si scenderà in cose un po' più serie parlando della missione e dell'avventura a cui Bilbo volente o nolente parteciperà, ma io direi di fermarmi qui e iniziare a dire qualcosa. Allora intanto è molto interessante notare il titolo del primo capitolo, cioè una riunione inaspettata, lo sto leggendo al contrario ma dovrei averlo azzeccato, una riunione inaspettata. Se vi ricordate bene l'introduzione, come inizia il librone grosso che Tolkien iniziò a scrivere subito dopo la pubblicazione dell'Hobbit ma impiegò almeno 15 anni per terminarlo, come è ovvio che sia dato che sono 1300 pagine, la compagnia dell'anello, libro 1, capitolo 1, una festa lungo attesa. Come vedete è in completa antitesi con l'inizio dell'Hobbit perché oltretutto la festa in questione, il compleanno, i 111 anni di Bilbo Baggins, non si è invecchiato di un giorno, ci sono dei motivi se non è invecchiato neanche di un giorno, a parte che è un po' invecchiato. Comunque la festa lungo attesa, chiaramente il compleanno, i 111 anni di Bilbo, la festa, il termine festa ha un'accezione quasi unicamente positiva e il fatto che sia lungo attesa fa comunque presagire che non ci sia nessuna sorpresa all'inizio del Signore degli Anelli e che la festa si svolga in maniera del tutto tranquilla. Naturalmente ci sarà un imprevisto durante la festa di Bilbo ma queste sono cose che almeno se abbiamo visto i film sappiamo già, mentre l'inizio dell'Hobbit, il primo capitolo ha un titolo completamente diverso, in completa antitesi, una riunione che potrebbe avere un'accezione positiva e un'accezione negativa a seconda delle situazioni, ma soprattutto inaspettata e questo lascia già comprendere come l'Hobbit incominci con la completa distruzione di questo clima di calma e di pacatezza della Contea, dal punto di vista di Bilbo Baggins naturalmente. Il capitolo inizia con una frase molto importante che è diventata storica, cioè l'inizio, la frase da cui ha avuto inizio tutta la terra di mezzo, in una caverna sottoterra viveva uno Hobbit. La leggenda vuole, ma questo è stato confermato da Tolkien stesso sia nei documentari che nelle sue lettere, la nascita di questa frase fu completamente casuale, quindi l'inizio della Hobbit stesso fu completamente casuale. Stando alla leggenda durante un pomeriggio estivo molto caldo e affoso il povero professor Tolkien costretto a correggere degli esami di anglosassone si trovò di fronte a un foglio completamente bianco e colto improvvisamente da questo istinto creativo gli venne da scrivere in un buco sottoterra viveva uno Hobbit. La traduzione di questa edizione della Delphi che non è stata corretta nemmeno nell'edizione beige che trovate in libreria, ma è stata corretta nell'edizione Bonpiani, in realtà non traduce alla perfezione perché non è in una caverna sottoterra viveva uno Hobbit, la frase è ancora più semplice, in un buco, in a hole in the ground there lived a Hobbit, cioè in un buco sottoterra viveva uno Hobbit e questa è la traduzione che è stata corretta nella nuova edizione della Bonpiani. Comunque, al di là che sia una caverna o un buco, l'Hobbit ebbe inizio da questa frase, tanto che il professor Tolkien nemmeno sapeva cosa fosse un Hobbit a quei tempi, immagino fosse la fine degli anni 20 o l'inizio degli anni 30, cercò poi in un secondo momento di scrivere il seguito di questa storia per cercare di capire innanzitutto cosa fosse un Hobbit. Nonostante questo, però, questo libro, tenendo conto che innanzitutto dovremmo anche notare che ha un registro linguistico quasi del tutto diverso da quello del Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli fin dal primo capitolo è molto complesso, arzigogolato, per certi versi anche retorico, con un linguaggio più arcaico, più classico e più flemmatico, tanto che si prende moltissimo tempo, moltissima attesa prima di raccontare veramente qualcosa e descrive a lungo tutto quello che sta accadendo. L'Hobbit, almeno fino a questa parte iniziale, è molto rapido, tanto che l'incontro con i nani e tutto il resto, che nell'Hobbit esbriga in 12 pagine, secondo me nel Signore degli Anelli ne avrebbe preso come minimo 30, a meno che non avesse aperto delle digressioni su questioni storiche che l'avrebbero reso ancora più lungo. Il registro linguistico, come ho detto, è molto semplice, tanto che il professor Tolkien tornerà e revisionerà la prima edizione dell'Hobbit per cancellare numerose frasi, numerose piccole frasi furbette che aveva posto per i lettori più giovani per convincerli a continuare a leggere. Un esempio, credo sia rimasto ancora adesso, ed è ad esempio una frase nella seconda o terza pagina, può anche aver perso il rispetto del vicinato, ma in cambio ci guadagnò tre puntini di sospensione, bene, vedrete se alla fine ci guadagnò qualche cosa. Questa crepa nella quarta parete in cui Tolkien esce un attimo dalla storia e dal romanzo in quanto narratore e dialoga direttamente con il lettore per dirgli, lo vedrai quello che succederà, ma tu intanto continua a leggere, naturalmente non l'avrebbe mai fatto col Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli non rompe, credo mai, la quarta parete. Se lo leggi bene, se non ti interessa sapere come va avanti, sono affari tuoi. È un racconto classico, è un pezzo di mitologia storica, secondo Tolkien, non ha bisogno di certi mezzi. Lui tolse gran parte di queste frasi che si rivolgono direttamente al piccolo, giovane lettore che deve essere convinto a continuare per questa storia, ma è ovvio, è chiaro che il linguaggio dell'Hobbit sia molto più semplice, molto più ironico, molto più colloquiale rispetto a quello del Signore degli Anelli. Ma torniamo alla domanda cos'è un Hobbit? Come mai Tolkien è partito dagli Hobbit? Nonostante questo grande mistero e il fatto che il titolo del romanzo sia proprio lo Hobbit, questo libro non racconta moltissimo a riguardo, non si spreca in grandi dettagli sull'origine e sulla storia degli Hobbit, lo farà il Signore degli Anelli. Quasi tutto quello che potremmo dedurre sul mondo degli Hobbit in questo libro lo dedurremo dal comportamento di Bilbo Baggins nel corso dell'avventura, specialmente in questa primissima parte dell'Hobbit in cui c'è effettivamente qualche spiegazione. In maniera anche molto simpatica, Tolkien si interrompe nel bel mezzo di un discorso ricordandosi che deve dirci qualcosa sugli Hobbit perché se noi stiamo leggendo questo libro nel 1937 non sappiamo che cosa sono. La madre di questo nostro Hobbit, vedete Tolkien sta già parlando della genealogia della famiglia di Bilbo, sta divagando quando in realtà si interrompe, così diverso dagli altri inciso. Ma che cos'è un Hobbit? Ottima domanda. Lui spiega, noi in questo momento ci troveremo nella settima era della Terra di Mezzo, cioè il mondo che è andato molto avanti rispetto alle storie degli Elfi, dei Nani, degli Hobbit e degli esseri umani, noi esseri umani ahimè ci siamo ancora, ma a parte questo, Tolkien spiega che gli Hobbit esistono ancora oggi nella settima era della Terra di Mezzo, ma non si mostrano perché hanno ormai avuto una paura tale della gente alta, cioè di noi che tendono a nascondersi nei boschi e non farsi più vedere e questo è parte dell'abilità degli Hobbit che viene narrata anche nella terza era della Terra di Mezzo, cioè il nostro presente narrativo. Gli Hobbit sono molto bravi a nascondersi, sono esseri silenziosi, sono esseri che se non vogliono farsi notare 99 su 100 riescono a non farsi notare, questo perché sono piccoli, sono minuti, hanno l'abilità di muoversi silenziosamente, non hanno bisogno di scarpe o altri indumenti rumorosi perché sono di stazza molto resistente e poi hanno questa particolarità nelle piante dei piedi che formano subito uno spesso strato di pelle molto resistente che permette loro di camminare a lungo senza bisogno di alcuna calzatura e poi sono anche molto abili nel lavoro manuale, hanno manine molto abili che li rendono ottimi arcieri perché hanno anche un'ottima vista e soprattutto molto adatti a lavori particolari come ad esempio il mestiere con cui Bilbo verrà, cioè la mansione con cui Bilbo verrà assunto all'interno della compagnia di Thor in uno scudo di querce, cioè scassinatore, la loro abilità con le mani unito alla silenziosità, cioè ok se fossimo in un gioco di ruolo classe abilità dell'Hobbit ladro. Per il resto abbiamo molti altri dettagli che vengono ripetuti pari pari nel prologo del Signore degli Anelli, cioè riguardo agli Hobbit, come riprenderà anche Bilbo nel film di Peter Jackson all'inizio scrivendo il proprio libro. Tendono a mettere su un po' di pancia, vestono colori vivaci, soprattutto di verde e di giallo, anche il prologo del Signore degli Anelli dirà verde e giallo, sono i loro colori direi preferiti riguardo agli indumenti. Non portano scarpe per il motivo che abbiamo già spiegato, hanno lunghe abili dita scure, facce gioviali e ridono con risa profonde e pastose. La bravura di Peter Jackson è stata nel rendere anche molto bene questa tipica mentalità degli Hobbit, specialmente dopo il pranzo che consumano due volte al giorno se ci riescono. Nel Signore degli Anelli Tolkien corregge il tiro e nel prologo c'è scritto che riescono a fare anche sei pranzi al giorno, ora capisco perché tendono a mettere su un po' di pancia. Eppure nonostante quello che abbiamo detto, dopo una ventina di righe la descrizione degli Hobbit si conclude qui a pagina 15 e Tolkien continua a parlarci dell'origine di Bilbo Baggins nello specifico di questo Hobbit qui. E prima di aprire anche io questa parentesi andrei a prendere l'introduzione agli Hobbit del Signore degli Anelli. Io ho una versione, come vi ho già fatto vedere, molto più grande del Signore degli Anelli ma apposta per fare questi video ho comprato per 3€ di seconda mano una edizione estremamente economica della Bonpiani che torturerò con le mie sottolineature. Non mi sarei mai azzardato a sottolineare la mia coppia, quella che mi tiene compagnia da 10 anni circa. Tra l'altro una cosa che mi piace, l'unica cosa che mi piace di questa edizione è che vi offre anche una splendida mappa della Contea. Perché di solito la geografia della Contea non è molto ben spiegata e si tende a fare un po' di confusione fra i villaggi in contrapposizione con i decumani, cioè fra virgolette, è un brutto termine, ma le province in cui è divisa la Contea. Ma avremo occasione di farlo in un secondo momento. Intanto a proposito degli Hobbit, che è il prologo del primo capitolo, una festa a lungo attesa. Un paragrafo di questo capitolo introduttivo è preso pari pari dalla Hobbit quasi, dove ripete alcune cose, avevano la bocca fatta per ridere, bere e mangiare, io direi anche per fumare l'erba pipa. C'è un paragrafo, c'è un sotto capitolo intero dedicato all'erba pipa e magari parleremo dell'erba pipa in privato perché c'è molte cose da dire, ci sono molte cose da dire sull'erba pipa. Una frase importante, la parentela che ci unisce agli Hobbit, a noi umani, malgrado la loro recente ostilità, e qui c'è un rimando col presente riguardo al fatto che non si facciano vedere, è più che evidente, molto più stretta che non quella che ci unisce agli Elfi o ai nani. Molti sarebbero tentati di stabilire una correlazione fra gli Hobbit e i nani per via della statura, non è affatto vero, questi discorsi non hanno senso di esistere in Tolkien, gli Hobbit sono molto più simili agli esseri umani, sono a tutti gli effetti dei mezzuomini, dei piccoli uomini. Dovessimo cercare di fare uno schema per stabilire le correlazioni fra le varie razze che abitano la Terra di Mezzo, metteremmo gli Hobbit molto molto vicino agli esseri umani. Eppure, nonostante Tolkien sia stato molto attento a definire gran parte della storia e della mitologia della Terra di Mezzo, manca la vera e propria origine degli Hobbit, cioè non sappiamo da dove sono spuntati fuori gli Hobbit. Anche perché gran parte della cronologia degli Hobbit comincia nel periodo in cui oltrepassarono le montagne e arrivarono nell'Eriador, cioè la regione in cui qualche secolo dopo nacque la Contea. Prima, il luogo di origine degli Hobbit, al tempo in cui erano ancora divisi in tre razze specifiche, i paloidi, gli sturoi e i pelopiedi. Non era il luogo in cui è sorta la Contea durante la terza era della Terra di Mezzo, ma era molto più a est, oltre alle montagne dove c'è Gran Burrone, lungo il corso del fiume Anduin. L'Anduin è il fiume più importante della Terra di Mezzo e noi l'abbiamo anche visto nella Compagnia dell'Anello, perché è il fiume che la Compagnia percorre con le canoe dopo la sosta all'Hothlorien, cioè in pratica prima di arrivare al finale del film in cui uno della Compagnia ci lascia la pelle e dove si vedono quelle splendide cascate, dove la Compagnia di fatto si separa. Quello è il corso del fiume Anduin, il fiume più importante. Gli Hobbit non abitavano così in basso, perché siamo molto più a sud in quelle scene della Compagnia dell'Anello. Gli Hobbit abitano in una zona molto più a nord del fiume Anduin, specialmente all'incrocio con un altro fiume, il fiume che noi, Gladden se non mi sbaglio, che nell'edizione italiana noi abbiamo chiamato Gaggiolo. Molto a nord, molto vicini tra l'altro al Bosco Atro, alla foresta di Mirkwood e ancora più a nord, al Regno dei Nani di Erebor. Pare che gli Hobbit fossero vissuti lì per parecchi secoli senza grandi problemi, finché non si levò la famosa ombra ad est che li obbligò a spostarsi molto rapidamente per paura della loro stessa vita. Inizialmente gli Hobbit erano divisi in tre razze, come ho detto, i Pelopiedi erano la razza più comuna degli Hobbit, erano la razza più comune, erano gli Hobbit più bassi e più scuri di pelle, non indossavano indumenti per fasciare i piedi, erano sempre a piedi nudi ed erano la specie degli Hobbit più frequente. Poi c'erano gli Sturoi, una parte di Hobbit è leggermente strana, perché nell'Hobbit, nel libro rosso, adesso non vado a prendere il pezzo in cui lo dice direttamente, ma Tolkien spiega che gli Hobbit non hanno barba. Questo è vero per gli Hobbit che abitano la Contea, che sono praticamente una fusione di queste tre razze ben distinte di Hobbit più antichi, ma una volta questa razza di Hobbit, gli Hobbit Sturoi, avevano la barba, erano l'unica delle tre razze di Hobbit a poter farsi crescere la barba e la loro particolarità non finiva qui, erano un pochino più alti dei Pelopiedi e soprattutto non avevano alcuna idiosincrasia per l'acqua. I Pelopiedi e i Paloidi non hanno un buon rapporto con l'acqua e tentano ad evitare l'acqua, a meno che non sia stare a pescare vicino a un fiume. Gli Sturoi pescavano in qualsiasi maniera, con barche o anche a mani nude e si coprivano i piedi con degli stivali e si può dire, il libro spesso li chiama gli Hobbit di fiume, la loro particolarità è più che altro quella, erano gli Hobbit di fiume. Dopodiché avanzano i Paloidi, gli Hobbit più alti di statura, tendenzialmente biondi o comunque con i capelli chiari, leggermente più simili agli esseri umani che non agli altri Hobbit e più intraprendenti e più aperti verso il mondo. Il clan dei Brandybook e dei Took, vatti a fidare di un Brandybook e di un Took, sono due famiglie di Hobbit che abitano nella Contea che hanno la maggioranza di sangue Paloide ed ecco la spiegazione di Tolkien per cui sono così strani e così tendenti ad avere avventure o a vivere una vita molto diversa da quella tranquilla e sonnecchiante degli altri Hobbit. Comunque i Peropiedi e i Paloidi si spostarono molto presto dalla confluenza del fiume Gaggiolo e dell'Anduin. Andarono verso ovest, spinti dall'ombra ad est, attraversarono le montagne e nei due secoli fra il 1100 e il 1300 della terza era della Terra di Mezzo si stabilirono nei dintorni del villaggio di Brea, quello che visita Frodo e i suoi tre amici Hobbit nel corso dell'inizio della Compagnia dell'Anello e si mischierano con la gente alta, all'epoca quella zona dell'Eriador era abitata soprattutto da esseri umani e da nani e ebbero tendenzialmente buoni rapporti e successivamente strinsero accordi con, nell'anno 1600 della terza era, strinsero accordi con il re di Arnor. Qualcuno sa cos'è Arnor? Gondor, anch'io avevo delle idee molto confuse, esisteva un altro reame degli esseri umani, noi conosciamo Gondor e conosciamo Rohan che è stato fondato molto dopo la fondazione di Gondor, in realtà esisteva un altro reame degli esseri umani che viene nominato molto vagamente ma viene rappresentato nel film attraverso uno dei personaggi, uno dei più importanti. Il reame di Arnor, detto anche reame del Nord, venne fondato da Elendil, da non confondere con Erendil, so che i nomi saranno una questione complicata, Elendil con la L è il padre di Isildur, noi lo vediamo proprio nel film, nell'introduzione, nel riassunto della Compagnia dell'Anello perché è colui che si scaglia contro Sauron e viene senza grandi problemi sbattuto via da quest'ultimo contro una roccia dove troverà la morte. Suo figlio Isildur è quello che staccherà le dita di Sauron, dell'oscuro signore, prendendo possesso dell'unico anello. Elendil fu il fondatore, prima di morire naturalmente, del regno di Arnor e i suoi figli Isildur e Anarion, Anarion viene citato nel ritorno del re, la stirpe di Anarion fu spezzata, fondarono a sud il regno di Gondor. Abbiamo un reame degli umani all'estremo nord e un reame degli umani all'estremo sud, vicino a Mordor. Il reame di Gondor rimase in piedi, anche se in decadenza, in mancanza di un re, governato da questa stirpe di sovrintendenti, come vediamo durante gli eventi della Guerra dell'Anello, mentre il reame di Arnor fallì, cadde, nel bel mezzo della Terza Era per colpa del re degli stregoni di Angmar. Evitiamo di sparare a troppi termini, pratica dal capo dei Nazgul, il re degli stregoni di Angmar è il capo dei Nazgul, il principale luogotenente di Sauron che fece guerra al regno di... mi sto confondendo anch'io... che fece guerra al regno nord di Arnor e lo portò alla caduta nel bel mezzo della Terza Era, finché questo regno era ancora... in realtà poi la storia è più complicata perché il regno era già diviso in tre parti, governati dai figli diversi discendenti di Elendil, ma così le cose si fanno troppo complicate, stiamo parlando soltanto degli Hobbit. Gli Hobbit, giunti nel 1600, nella zona su cui fonderanno la Contea, strinsero accordi con uno degli ultimi re di una delle tre parti del regno di Arnor ormai in decadenza e strinsero accordi secondo cui avrebbero curato le strade e in pratica curato la terra che il re dava loro in uso frutto e questo fu in pratica la nascita della Contea. Gli Hobbit dall'anno 1600 della Terza Era iniziarono a contare gli anni tramite un proprio calendario che è il calendario della Contea. Se ricordate Bilbo all'inizio della Compagnia dell'Anello è dell'anno 1400, secondo i calcoli della Contea. Questo in teoria basta aggiungere il 1600 all'anno della Contea per ottenere l'anno della Terza Era. Secondo il calendario della Contea, Frodo va a portare l'Anello a Mordor nell'anno 1421. Questo vuol dire che secondo la normale cronologia del resto della Terra di mezzo, questo accade nell'anno 3021. Bene, io mi fermerei qua per questa prima puntata perché abbiamo già detto abbastanza. Avrei dovuto dire qualcosa in più sugli Hobbit, ma rileggerò un attimo l'introduzione del Signore degli Anelli e magari farò un video a parte per questo. Avremo occasione per parlare degli Hobbit continuando a leggere Lo Hobbit, per l'appunto. Abbiamo in realtà già stretto la conoscenza di tutti i nani. Io spero, e vi chiedo scusa tra l'altro per la recitazione, per la maniera in cui ho letto Lo Hobbit, ma io non voglio leggerlo in maniera granché professionale. Siccome non ho il tempo per fare le cose nella maniera in cui davvero desidererei, non è questo il mio lavoro, anche se non mi dispiacerebbe, ma sì, è meglio non sperare troppo. Io mi sono soltanto limitato a leggerlo e basta, cercando di ripetere tutte le volte in cui mi sono impappinato. È successo circa 836 volte. Io le ho tagliate tutte e ho messo insieme tutti i pezzi in cui non mi sono impappinato. Non mi sono messo a canticchiare la canzoncina dei nani che aiutano Bilbo a rimettere a posto i piatti perché non so come suonerà, non c'è credo nella colonna sonora dell'Hobbit che hanno rilasciato e penso che la sentiremo per la prima volta al cinema il 13 dicembre. Io comunque non canterò, non canterò nessuno dei poemi che Tolkien ha scritto, mi limiterò a recitarli con una voce leggermente più impostata. Potrei soltanto dire la via prosegue da una parte lungi dall'uscio dal quale parte. Ora la via si è spenta al fronte, devo seguirla contro ogni sorte. Poi Gandalf si fermava. Maledetto Frodo che ha interrotto Gandalf. Comunque io non canterò le canzoni scritte da Tolkien durante l'opera, ce ne sono alcune bellissime, soprattutto nel Signore degli Anelli, ma intanto nella seconda parte del primo capitolo dell'Hobbit avremo la famosissima canzone della montagna solitaria di cui conosceremo già le note, ma io non la canterò. A parte questo spero soltanto di... cioè io vi consiglierei di saltare direttamente la parte in cui io leggo l'Hobbit, se avete il libro davanti leggetela prima e poi ascoltate questa parte dove faccio qualche piccola spiegazione sulla terra di mezzo. Comunque come ho detto abbiamo già fatto la conoscenza dei nani, ma io spero soltanto che le immagini che ho inserito prima vi abbiano aiutato a distinguerli, perché sarà un piccolo problema riuscire a distinguerli tutti più che altro per via dei nomi. Il libro dell'Hobbit non offre una grande distinzione di caratteri fra i nani, ci sono molti nani che sono rimasti quasi del tutto anonimi basandoci unicamente sul libro, in questo caso Peter Jackson ha dovuto fare alcune delle prime modifiche all'Hobbit cercando di esaltare i caratteri di tutti quei nani che non avevano da parte del professor Tolkien un carattere ben definito, infatti ad esempio il libro non dice nulla riguardo a un Hobbit con la parte finale di un'ascia conficcata nel cervello, se l'è inventata Peter Jackson, so che Peter Jackson ha ancora alcuni ricordi vagamente splatter, so che non li utilizzerà per l'Hobbit, ma questa idea è carina anche se non è citata direttamente da Tolkien. È solo una delle molte modifiche che Tolkien farà per l'Hobbit, quindi dovremmo portare pazienza e potremo parlarne con maggiori dettagli dal 13 dicembre in poi. Al di là di questo, per una spiegazione più dettagliata sui nani, io vi rimando direttamente alla prossima parte, spero soltanto che le immagini di prima vi abbiano aiutati a distinguerli un po' di più, altrimenti il film farà il resto, per il momento vi saluto e speriamo di poter leggere presto qualche altra pagina dell'Hobbit, mi piacerebbe riuscire a terminarlo prima di morire, perché credo che se avesse iniziato a leggere invece Il Signore degli Anelli non ce l'avremmo mai fatta.